L'alza bandiera, la sfilata delle forze armate, delle forze di polizia, delle associazioni combattentistiche e la deposizione della corona dall'oro in memoria dei caduti delle guerre. E' questa la ricorrenza del 4 novembre che oggi è stata ufficiata, celebrata all'interno della caserma del 28esimo reggimento Pavia che ha aperto le sue porte alle istituzioni civili, militari e religiose, alle scuole. Era presente una delegazione dell'Istituto Agrario Cecchi per commemorare questa ricorrenza, quella del 4 novembre 1918, dell'armistizio di Villa Giusti che completò di fatto l'unità d'Italia con l'annessione dei territori di Trento e Trieste completando una unità cominciata in periodo risorgimentale. E' anche la giornata delle forze armate e anche la giornata di commemorazione del militegnote. Tante ricorrenze ricordate dal comandante del 28esimo reggimento Pavia. Una giornata fondamentale in cui si vive, avete visto anche voi, la vicinanza tra le forze armate e la popolazione, avete visto anche gli studenti presenti con noi. Noi ci teniamo affinché le nostre forze armate, l'esercito di cui io faccio parte, siano parte integrante della comunità e siamo al servizio del Paese, non solo in occasioni di eventi quali crisi, guerre, conflitti, ma siamo qui per voi sempre, in ogni occasione. E per il comandante Di Leonardo, insediato da circa un mese al comando del 28esimo reggimento Pavia, è una prima apertura della caserma alla città, ma anche una sorta di ritorno a casa. Questa è la mia prima volta da comandante di reggimento, però devo dire una cosa, perché è la prima volta che interagisco con voi, con la stampa e con i media. Io sono stato qui per la prima volta nel 2003, quando il reggimento era in chiusura, era in prevista chiusura ed era destinato ad essere appunto un monumento, un parcheggio. Invece lo Stato Maggiore, a me e altri ufficiali, ha affidato il compito di riconfigurare quello che era il vecchio CAR, ovvero il reggimento di attestamento reclute, in un reggimento ad altissima valenza operativa, che è quello che vedete oggi. Quindi per me è un ritorno, è una grandissima emozione, perché ho fatto tanti passaggi qui come comandante nelle varie unità sottordinative del reggimento, quella compagnia, il battaglione, e oggi sono onoratissimo di essere il 72esimo comandante di reggimento. E sono anche felicissimo di essere andato a Pesaro, che è una città che io adoro, e penso la mia famiglia si stabilirà qui definitivamente, proprio a sancire l'amore che ho verso la città. Io continuo a fare il pendolare mentre la mia famiglia rimarrà qui.